fortificano la nostra fede e ci stimolano a sempre meglio seguire l'insegnamento di Cristo nella fedeltà alla Santa Chiesa Cattolica. Il martirio di San Maurizio richiama in particolare l'attenzione di coloro i quali esercitano nella società in carichi di responsabilità della cosa pubblica affinché la luce del Vangelo li illumini e li guidi per la realizzazione del bene comune. Saluto il Reverendissimo Signor Parroco della Chiesa della Santissima Trinità e di San Marziano che ha accolto nella sua parrocchia le dame e i cavalieri degli ordini Sampaoli e saluto in particolare i confratelli nel sacerdozio appartenenti alle milizie equestri Sampaude ai quali sono grato per la preziosa assistenza spirituale prestata. Saluto le autorità civili e militari che hanno accolto l'invito ad unirsi alla Santa Messa. Abbraccio e benedirmo gli insignini di Sicilia con il loro delegato e i vicari convenuti nel nome della Casa di Savoia che serviamo nella fedeltà alla Chiesa Cattolica e al servizio della nazione italiana. Roma 22 settembre 2017 Monsignor Paolo De Nicolò Arcivescovo Gran Priore degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia Grazie 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 Grazie